Abbiamo 45 mila abitanti, ma io ho tantissime famiglie in emergenza abitativa, tantissimi cascinesi, tantissimi italiani e devo aiutare prima loro, è un mio dovere. No, la verità è che lei non è capace di fare il sindaco, capisce? Si candida di lei, si candida di lei, ma non si candida perché non la votano. No, senta, riguardo a quello che ho detto sui voti, no, io credo che io mi sono candidato con il mio partito, invece lei ha fatto la bella lavanderina con la Lega, se no magari lei da sola ne prendeva 22 di voti, non 122. Guardi, la contraddico perché io sono nella Lega Nord in Toscana da molti anni, quando la Lega Nord prendeva molto meno di ora e io sono stata eletta 5 anni fa in Consiglio Comunale, sono stata la prima eletta leghista nella mia provincia, quindi guardi non mi può dare lezioni. Adesso al di là delle questioni, sindaco mi dica una cosa, ma si può fermare, si può fermare in qualche modo, cioè un sindaco ha qualche strumento sì o no? Sì, l'altro strumento che uso, se Librandi mi fa parlare, è chiaramente il rispetto del dimensionamento abitativo. Questi profughi li stanno infilando a più non posso in strutture che non hanno la capienza nemmeno per accoglierli. Grazie!